Rossano, strategia rifiuti zero è un obiettivo idealistico in un tempo realistico, cosa significa in questo modo? Significa che noi non lo faremo domani rifiuti zero, però ci possiamo da ieri mettere in cammino verso rifiuti zero e giorno dopo giorno prima ridurre gli smaltimenti e poi all'interno degli smaltimenti ridurre quegli oggetti e quei prodotti che oggi non sono riciclabili o compostabili e che sono soprattutto legati all'usegetta quindi è una roadmap, è un viaggio, l'obiettivo più importante è mettersi subito in viaggio, un viaggio nella giusta direzione Allora partiamo subito con rifiuti zero anche in Tostà, dai!